Sto facendo il video, oh? Vai ragazzi, così vi voglio! Ale, se fai la cassa in me, se non stai in difficoltà! Io siamo a Camarena, po'! E attenzione, frega il pressazzo! Ba, 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 da, becchi, non sento necchi! Ba, 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 va, ba, 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 ba!" jest Sound of that sound, watch out! Get down, get down! Get down! è e e e e e e e e e Noi, noi, noi E' un attenzione E' un attenzione Eccolo, guarda, è pronto per l'acqua gym, Marcuccia E dov'è là, Gesù Cristo, dov'è? Gesù Cristo, dov'è? E' là Il cazzo lo fanno piccare Poi gli facciamo un'intervista, va Poi gli facciamo un'intervista Devo che mi pensi La foto me la presta Eh, presto sto facendo un video Ma lo sto registrando Alexino, ecco in videocamera Chef de sport Le piantine Dove ti trovo poi, Alessandro? Dove ti trovo poi? Dalle tre passiamo All'entrata Dalle due alle quattro sono l'aio Dalle due alle quattro sei all'entrata? Forza Palermo Chi c'è? Forza Palermo Si può fare Chi non sa to' un violettino, eh? Eh! Chi non sa to' un violettino, eh? La cosa che stanno violendo Chi non sa to' un'una Chi non sa to' un violettino, eh? Se calma Chi non sa to' un violettino, eh? Bari nos dai mesi So clap So clap, 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 so Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E video. E video. E video. Ok, let's go! E balla! Una volta, non due, tre. Grande Vanni! DJ Vanni on the sound. E video. 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 Ok, let's go Ok, let's go